meraviglioso, vedi quanto è caliente sul palco, che morenze che ha e proprio lo special guest della serata è simpatico eh? è simpaticissimo ma proprio va pronominata per la sua simpatia e io dico direttamente da Top Girl il programma tv più seguito del canale di Max e il miglior pilota del mondo automobilistico lui è Stig di Top Girl salve, come va? Tutto bene? benissimo direi allora mi racconti un po' tipo anche se lei sta bello coperto quindi non ha sentito particolarmente queste temperature un po' così insomma ma per il resto le è piaciuto questa festa, questo motoraduno qui ad Alessano? e guardate l'espressione direi che è proprio entusiasta cioè non abbiamo neanche bisogno di un altro microfono no 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 ma è proprio eeeh a me fa paura ci racconti le sue emozioni? ah ecco le sue emozioni di questa sera ce le vuole raccontare? anche in un simbolo, in un gesto ce le vuole raccontare o no? no fracca aiutami tu per favore adesso ti aiuto io ma dovremmo fare la vera per funzionare mi sanno guarda guarda anche a te un riconoscimento del motoraduno Gianni per sempre ottava edizione eh quale voglio questo è il riconoscimento degli organizzatori di questo motoraduno di questa manifestazione sei contento di questo riconoscimento? il vino lo bevi? ma soprattutto tu bevi? in generale bevi? non riusciamo a tirare fuori niente il nostro ecco adesso no è tutta tua te la puoi prendere tranquillamente simpatico molto venite qua anche gli organizzatori una foto con gli organizzatori attivi per favore grazie una foto con anche con vabbè mettila così così se vede mettila così ecco ecco è uscito con gli occhi chiusi bella questa eh mi piace grazie grazie di essere stato con noi complimenti Tom Gheorg direttamente insomma voglio fare un giro con la macchina sua il biglietto che hai portato dove l'avete messo? qua qua ce l'andiamo qua eccolo qua vai e noi vogliamo qui Antonio Tonsi